Dotteme una cosa, stamattina non siamo capabaggioni. Questa c'è, come facciamo la collezione? Facciamo la collezione. Allora non ho cornetto, non ho cappuccino. E non ho passato il patrone. Ah, niente? Niente, niente. Questa c'è la collezione. Questa mattina questo lo toccano. Il perice di San Pedro? Il perice di San Pedro. Ma questo c'è, uno ha potuto sapere che sapere che hanno. Questo è un naturale. A dove c'è? C'è la cultura. La cultura dove si trova? Qui, vicino a dove abito io. A papagioni. Vicino all'acqua. Sempre a papagioni. Vicino all'acqua, con la tazzaianna, con la maranna. E' un numero uno i papagioni. Ricordate quando ammazzavo i mucchi di vetenti? La vera mazzè era un numero uno i papagioni. Ma io di capo, io di capo, ma mi ricordate quando ammazzavo i vetenti? Ma mi ricordate quando ammazzavo i vetenti? Mi ricordo, mi ricordo a Petro. Dettemi una cosa, che lavoro faccio io? Tu lavoraste sempre. Ma che lavoro faccio io? Vendevi. Ho capito che vendevi. Ma qui? A macelleria. A carne. A macelleria. Mi ricordate quando vengono i vetenti? C'è l'anno. Ogni vado si piava la carne e mi faccia raggiare. E' chi? Ecco io ho capito. E' chi? E' chi? E' chi? E' chi? E' chi? E lui è la verità. E' chi? Ma la pasta non ci vede. Ma la pasta non ci vede. Non ci vede. Giusto giusto. A posto. Grazie.